L'immaginare di fare una pulizia radicale decisiva di zone, zona per zona, credo che sia un valore aggiunto che rende più razionale l'azione dei simboli. Bene, io da questo punto di vista invito i cittadini ad essere attenti e diligenti nella raccolta differenziata, evitare di abbandonare di più in modo discriminato ed aiutare così la città a riacquisire il suo luogo splendido che ci rappresenta.